Sono Giulia Mosca e sono Lara di Benedetto e siamo le finaliste terze classificate del contesto Olivetti. Frequentiamo l'Università Rufa che ci ha anche aiutato in questo progetto. Abbiamo cercato di enfatizzare comunque la funzionalità e anche la fattibilità del nostro prodotto e soprattutto anche pensando un prodotto per tutti e non per pochi. Lo schermo del cliente è enfatizzato dal logo che vuole richiamare l'azienda. Abbiamo davvero pensato molto anche a cosa c'è stato prima e cosa potrebbe essere d'aiuto all'operatore e alla visualizzazione del cliente. Ringraziamo ovviamente l'Olivetti Contest per averci scelto e ringraziamo anche l'Università per averci dato una mano in questo progetto. Ringraziamo l'Università Rufa.